Campo partenti, Lunara, Marco Lasi, Rienda Suedga, Roberto Frassinelli, Revenge BF, Monica Gradi, Rapido B, Roberto Barsi, Raissa Gams, Daniele Della Maggiore, Ramaya, Gianfranco, Kersbaum, in seconda fila, Ruassi, De Reppi, Sandro, Gori. Prende velocità l'autostart, la macchina che stacca, e c'è battaglia per il comando, perché Revenge BF sopravanza Runara, ma non la salta, è più a largo di manera rapida OP, in corda c'è Rienda Suedga, più veloce del solito. Penso un po' atipica, forse anche perché sono arrivati tutti un po' di furia dietro alle ali della macchina, d'altronde il regolamento è questo. E così, Runara in vantaggio, Revenge BF di rincalzo, Rapido OP che risale all'esterno, poi Rienda Suelta. 15.4 in lancio, quarto iniziale, coperto in 37. In bocco della seconda curva con Runara Battistrada, rapida, suo malgrado, Aria in faccia. Revenge BF da porta, poi Rienda Suelta, Ramaya ancora, Ruassi, De Reppi e infine Raissa Gams in coda al drappello. Passaggio di fronte alle tribune, 46.7 per i primi 600 metri, manca poco più di un giro alla conclusione. Con Runara Battistrada, rapida, largo, Ramaya che muove in terza, Revenge appostata, poi Rienda Suelta, Ruassi e Raissa. Sbaglia Runara improvvisamente e crea un po' di caos, sbaglia anche Rienda Suelta, subisce la rottura un po' Revenge BF che perde Terreno, Ruassi, De Reppi anche lei finisce con lo sbagliare. Numero 7, Ruassi, De Reppi squalificato. Ramaya, ed è Ramaya che prende il sopravvento a 4.50 alla conclusione, mancano 3.50 al termine, 14.9 alla retta di là. Ramaya che si sta avvantaggiando al comando, poi rapida e Revenge BF. A 200 dal termine, Ramaya in netto vantaggio, poi rapida e Revenge BF. Ramaya che prosegue al comando, poi rapida e Revenge. Ramaya facile alla meta, quanto va forte questa cavalla. Rapida al secondo, Revenge al terzo. Ramaya e Gianfranco Kersbaum, il training di Massimiliano Matteini, i colori del signor Gianfranco Kersbaum, che sentiremo tra pochi istanti in premiazione. Il tempo al chilometro 1.16, 29.6, il quarto finale. Ramaya e Gianfranco Kersbaum vincono il premio Arci. Ramaya e Gianfranco Kersbaum